In occasione della festa della donna, l'associazione italiana Sclerosi Multipla si è presentata nelle principali piazze italiane. I volontari hanno distribuito le gardenie e i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica e al sostegno del progetto Donne oltre la Sclerosi Multipla. Alle persone in generale che comprano oggi la gardenia vorrei dire che può sembrare a loro un gesto piccolo ma non è così perché è come costruire una casa. Hanno messo un mattone verso questo progetto che tra l'altro l'Aism è dal 2007 che ha iniziato un progetto Donne proprio dedicato alle donne e quindi oltre a ringraziare tutte le persone che acquistano la gardenia dire che appunto devono essere orgogliose e contenti di avere partecipato alla costruzione di questo che non è più un sogno, speriamo che sia una realtà. Per sostenere Aism è possibile aderire all'iniziativa Aiutaci con una donazione a fermare la Sclerosi Multipla in tutte le filiali del gruppo Cariparma Credi Agricol.